In serie di continuo la marcia della maceratese, nel testa a coda, vittoria tutto sommato prevedibile contro il città di Marino 5-2. In rete per i marchigiani Romanschi e Melchiorri, poker addirittura per l'ex centravanti del Giulianova, che buca la difesa laziale al sedicesimo, al cinquantaseiesimo, al sessantatreesimo e al settantaquattresimo. Ospiti che riescono a perforare la difesa biancorossa con quadrini a inizio secondo tempo e Scarlato a tempo ormai scaduto. Melchiorri, capo cannoniere con cinque centri, alle sue spalle sale Ruffini, tripletta per lui nella vittoriosa e pirotecnica sfida del Delconero contro il Termoli. Molisani sul doppio vantaggio grazie all'autorete di Delgrosso e a Bartolini. L'Ancona ne fa quattro di fila, proprio col 3 di Ruffini e il sigillo di Olcesa al trentottesimo. Di Simone Miani, proprio al minuto 90, è il 4-3 definitivo. Dorici ha 11 punti, come la Strea che vince 2-1 sulla Re Canatese. Simonette e Mollo per i laziali, del giovane Di Marino la firma leopardiana che però serve a poco. Una lunghezza indietro la Vispesaro che a piano d'accio non dà scampo ad un San Nicolò in giornata storta. L'undici di De Amici si fa subito sotto per mano di Torelli e Paganelli, proprio in apertura di gara. Dopo 15 minuti si è già sullo 0-2 e con questo punteggio si chiuderà la partita. Pare al Civitelle tra Agnonese e San Benedettese. Rosso-Blu che scappano con Santoni al Nolo prima di farsi riprendere. Minuto 81 da Pizzutelli. Sale il San Cesare o tutta nel primo tempo la vittoria con l'Isernia. Al 18esimo del Gado, al 41esimo del Vecchio e per i Bifernini non c'è nulla da fare. Senza reti nella Marsica lo scontro tra Celano e Civita Novese. Padroni di casa che pagano la scarsa vena realizzativa di Riccardo Lazzarini, altrimenti avrebbero anche potuto battere il Rosso-Blu. L'unico derby abruzzese, quello di Città Sant'Angelo, solo giudica l'Angolana, battuta di misura a una miternina che litiga coi legni della porta di Angelozzi. Ne colpisce almeno tre, prima di subire la beffa da parte del solito Vincenzo Vespa al 38esimo della ripresa. Il giocatore nero-azzurro sfrutta una leggerezza nel controllo di spacca e ne posita nella porta sguarnita. Infine al Carotti, dove stavolta Stefanelli non va in gol, ma la Iesina vince lo stesso, col tiro dal dischetto di Tommaso Gabrielloni, leoncelli che si impongono 1-0 sul Fidene, relegato nelle zone basse di classifica.